Buongiorno, io sono il dottor Nunzio Trabona, medico, analogista, agopuntore e posturologo. Da sempre mi occupo della ricerca del benessere delle persone, sia fisico che emotivo. Alcuni anni fa mi sono imbattuto nelle discipline analogiche di Stefano Benemeglio e mi sono incuriosito molto da ciò che Benemeglio diceva, cioè lui applicava formule matematiche a qualcosa che matematico non è, all'emotività. Questo mi ha incuriosito ma allo stesso tempo mi dava un po' di scetticismo. Allora ho deciso comunque di approfondire l'argomento e di studiare, approfondire un pochino gli argomenti legati alle discipline analogiche. Nel tempo mi sono reso conto che quello che lui diceva potevo constatarlo sul campo, cioè lui parlava di cose che apparentemente aleatorie invece sono molto pratiche, molto reali. Di conseguenza ho deciso di affrontare gli studi delle discipline analogiche approfondendo sempre di più, diciamo così, dedicandomi anche nella pratica clinica mia ma anche, diciamo così, parallelamente alla pratica analogica, delle discipline analogiche. Devo ringraziare in questo periodo di studi che ho affrontato, ho conosciuto meglio la dottoressa Samuela Stano che è la presidentessa delle discipline delle UPDA che è l'università popolare delle discipline analogiche. Nello stesso tempo ho potuto frequentare Stefano Benemeglio che mi ha permesso frequentando il suo studio di approfondire, di conoscere bene la materia e di darmi una grande certezza, una grande sicurezza. Gli studi che mi ha permesso di fare sono chiamati, diciamo, top professional perché lui personalmente segue i soggetti che sono con lui nello studio. Quindi questa grande esperienza che ho avuto con lui nel frequentare le sedute e quindi mettendo a disposizione sia dalla persona, del soggetto che viene a farsi aiutare, sia da parte mia che ero lì a capire come lui lavorava, mi ha permesso appunto di migliorare notevolmente e poter aiutare molto meglio le altre persone. Questo mi ha portato ad essere io stesso promotore delle discipline analogiche portando in Liguria una scuola ufficiale come sede UPDA. Attraverso il corso X-Key che permette di conoscere queste discipline analogiche anche a chi non vuole affrontare questi studi per effettuarlo come professione, ma per il proprio benessere personale. Quindi ancora una volta ringrazio Stefano Benemeglio, Samuela Astano per avermi dato questa grande possibilità di conoscere e utilizzare queste meravigliose discipline che cambiano la vita delle persone, ma anche la mia. Io le ho applicate in prima persona prima di applicarle sugli altri. Quindi ringrazio ancora tutti quanti quelli che sono dietro le quinte, compreso Arianna che si dà sempre da fare in tutto e per tutto, e tutti gli altri docenti, analogisti e amici. Ciao a tutti!